Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale in un nuovo diario di lettura. È da un bel po' di mesi che non faccio un diario di lettura, che sarebbe una tipologia di video in cui mi concentro sulla lettura di un unico libro. In questo caso non mi concentrerò solo sulla lettura, ma anche sulla risoluzione di un vero e proprio libro gioco, che è Il gioco di Andromeda. Questo libro ha attirato la mia attenzione mentre ero alla ricerca di libri da risolvere, perché in generale mi piace risolvere enigmi, misteri, quesiti, mettere alla prova la mia mente e l'estate secondo me è il periodo perfetto per cimentarsi in questo tipo di operazioni, in questo tipo di attività. Ho del tempo libero e lo voglio dedicare a questo libro qui. In passato avevo già provato a risolvere un libro simile che è La Mascella di Caino e avevo sempre documentato sul canale tutta la mia esperienza. Non sono mai arrivata a risolverlo, questo è considerato uno dei libri più difficili da risolvere nel mondo, anzi penso siano state 6-7 le persone che sono effettivamente riuscite a capire come si risolvesse e come potete notare è un libro dal quale si staccano le pagine per poi rimetterle di nuovo in ordine. Il gioco di Andromeda funziona praticamente nello stesso modo perché le pagine attualmente sono attaccate l'una all'altra però quello che andremo a fare a un certo punto è tagliarle, infatti si vede anche la forbice al centro. Ho già letto le prime pagine per capire un po' come è strutturato il libro in questione e come nel caso della Mascella di Caino si poteva partecipare quando è uscito a un concorso a premi. Chi avesse risolto il mistero avrebbe potuto staccare questa scheda proprio dal libro, compilarla, inviarla alla casa editrice Newton & Compton e partecipare appunto al concorso. Il concorso ormai si è chiuso un anno fa, io non faccio più tempo a partecipare però so che ha vinto una persona, cioè una persona che in Italia ha risolto il libro a differenza della Mascella di Caino che non era riuscito a risolverlo nessuno, quindi c'è speranza. Il fatto è questo, che il vincitore o comunque chiunque partecipi al concorso firma un obbligo di riservatezza e per questa ragione non può dire qual è la soluzione, anche se la dovesse trovare, non può divulgarla. Infatti andando online per ora io non sono riuscita a trovare nessuno che abbia scritto come si risolve questo libro e qui con voi io vorrei provare a fare questo e aiutarci anche a vicenda nel capire come potrebbe funzionare. Ora, di che cosa parla il gioco di Andromeda? Praticamente la storia è quella di un uomo che è stato accusato di aver ucciso la figlia di nome Andromeda ed è al momento rinchiuso in un carcere psichiatrico, in un centro dove è seguito da una psicologa. Il primo capitolo che leggiamo è un capitolo che non deve essere staccato, è già bello in ordine ed è proprio dal punto di vista della psichiatra, che racconta di seguire questo uomo ormai da 5 anni e racconta un po' che cosa è successo. Un giorno infatti la figlia maggiore è stata trovata in casa legata con le mani in alto, appesa a una porta e piena di tagli. È deceduta effettivamente a causa di una paralisi respiratoria e il padre è stato accusato colpevole innanzitutto perché è stato ritrovato in uno stato di shock sul luogo del delitto e sembrava che avessi assunto degli psicofarmaci o comunque dei farmaci che l'hanno alterato in un qualche modo sembrava appunto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, qualcosa del genere. In più ha manifestato in un primo momento atteggiamenti fortemente aggressivi nei confronti delle forze dell'ordine dopodiché la morte della figlia è stata associata al mito del sacrificio di Andromeda. Il padre infatti aveva una forte passione per la mitologia greca che l'ha spinto proprio a dare questo nome alla figlia. Dopodiché lui si è chiuso in un silenzio tombale. C'è stato un momento in cui nelle prime fasi del processo è stato molto violento sia verbalmente che fisicamente nei confronti dei presenti in aula e si è rifiutato di collaborare alle indagini. Nel corso dei mesi poi ha sviluppato comportamenti schizofrenici con manifestazioni pertinenti alla sfera dissociativa e ha iniziato a rispondere alle domande con frasi deliranti e senza apparente senso compiuto. Nella fase termina del processo si è chiuso in un totale mutismo. Negli ultimi trappelli non ha risposto a una singola domanda del giudice e del pubblico ministero. Sia l'avvocato difensore che le guardia del carcere dove era stato preventivamente recluso per ragioni di sicurezza sostengono che da quel momento l'impuntato non abbia più proferito parola. La sua psicologa infatti dice che durante le sedute praticamente si guardavano anzi lui guardava fuori dalla finestra e lei guardava lui che però anche nel modo in cui lui guardava questo albero fuori dalla finestra lei ha capito che non poteva lui essere effettivamente un colpevole perché mostrava nei suoi sguardi molta molta umanità. Fatto sta che il senso del libro è quello di scoprire se effettivamente lui è colpevole o meno e farlo tramite questo diario che lei vede nella sua cella e poi lui strappa in tante pagine. Lo scopo del gioco è quello di riordinare le pagine del diario e risolverle perché alcune pagine sono scritte e dovrebbero raccontare dall'adolescenza di questo uomo fino alla morte della figlia. Altre pagine sono proprio da risolvere perché il gioco si struttura sia su un piano logico e più narrativo sia su un piano più enigmistico. Ci sono proprio dei veri rebus, dei veri indovinelli da risolvere e che sono fondamentali per non solo riordinare il testo ma anche comprenderlo al meglio. La stessa cosa succedeva nella mascella di Caino solo che era incomprensibile per me. qui dovrebbe forse essere leggermente più accessibile, io lo spero. Un esempio è che lui si mise a urlare quando gli venne chiesto di che cosa trattasse quel diario madre dona, madre dona, madre dona e rimettendo in ordine le lettere quello che viene fuori è Andromeda. Questo tipo di gioco dovrebbe essere contenuto all'interno del libro quindi parole che non sono realmente la parola che c'è scritta ma bisogna riordinare le lettere, indovinelli, parole bifronti, rebus, quiz matematici, linguistici e tanti altri tipi di riddles. Così c'è anche scritto nella parte in cui viene spiegato come risolvere questo libro. Ora, io ho letto il primo capitolo dal punto di vista della psicologa e poi ho letto la prima pagina del diario del paziente che si intitola Prologo. Ogni pagina è strutturata in questo modo, c'è effettivamente il numero della pagina e sono tutte in ordine, dalla 1 alla 95, però come abbiamo capito questo non è il loro reale ordine. Noi dobbiamo metterle in ordine, risolvere queste pagine e arrivare alla conclusione che cos'è realmente accaduto alla figlia Andromeda. In più ho notato proprio ora che alla fine del libro c'è anche una scheda dei diversi personaggi con nome, cognome, a volte è completo, a volte non è completo, età e quant'altro. Ci sono anche delle foto. Questi possono essere utili, anche questi secondo me si potrebbero ritagliare perché quello che andrò a fare, come nel caso della mascella di Caino, è creare una bella parete interamente dedicata al libro grazie alla quale riuscirò a collegare bene tutte le pagine. Il mio piano è quello di leggere prima tutto quanto il libro per capire che cosa ho a disposizione e poi ritagliare le pagine e iniziare a lavorarci per bene. In questa prima fase prenderò qualche appunto, sottolineerò magari qualche dettaglio che mi colpisce, se c'è qualcosa che mi sembra di poter risolvere subito la risolverò e ovviamente voi verrete con me in questo e mi aiuterete anche nei commenti, anche se a posteriori, magari per risolvere qualche parte che non so risolvere. Allora, visto che alla fine ci sono le schede dei personaggi, secondo me ha senso già iniziare facendomi aiutare da queste e estraendole dal libro. Anche perché ho trovato questa lavagnetta con tanto di puntine e la mia idea è quella di ritagliare tutti i personaggi e appenderli qui, così da averli sempre a disposizione. Senza paura di distruggere tutto. Forse riesco a strapparle. Ok, strapparle non è una buona soluzione. Non ho fatto un taglio preciso, ma ci accontentiamo. Prima di appendere tutti i personaggi mi leggo anche chi sono e quali sono le loro specifiche. Ogni tanto ci sono delle parti che sono effettivamente censurate perché in realtà la psichiatra dice di aver rovesciato dell'inchiostro sui file. Immagino che comunque queste parti non riusciremo a completarle nel corso della lettura, spero almeno. Sto procedendo con la lettura e quando ci sono delle informazioni ad esempio questa il fatto che Maria abbia un gatto che non perde mai il pelo cerco su internet quale razza potrebbe essere quindi se ci sono effettivamente delle cose che il testo mi suggerisce di cercare online lo faccio. Ad esempio nella pagina precedente si parlava della leggenda di Sibilla Cumana e del fatto che lui lascia che la profezia venga mischiata dai venti ma stavolta non sono foglie di palma e sono andata a cercarmi la storia di Sibilla che effettivamente lanciò delle foglie di palma dentro le quali c'erano le profezie al vento. Quindi quando ci sono degli aspetti del testo che non conosco ma che secondo me si possono scoprire online faccio le mie ricerche infatti possono col mio computer e quando trovo dei riferimenti ai personaggi scrivo anche nella loro scheda i dettagli aggiuntivi che scopro di loro. Allora, ci sono delle parti che bisogna decifrare ad esempio a pagina 4 ci sono tutti questi simboli io sono riuscita a riconoscere quello dello scorpione mentre gli altri non so che simboli potrebbero essere. ho cercato anche online ad esempio l'alfabeto greco, egiziano potrei cercare forse qualche altro alfabeto tipo l'arabo comunque non sono riuscita a decifrare altro per il momento oltre a questo mentre nella pagina successiva mi è andata molto meglio perché ci sono diverse lettere maiuscole e cerchiandole tutte queste formano una frase ad esempio fino adesso ho scritto figli miei come avete potuto commettere e sono arrivata qua ora cerco di completare la frase comunque non ho ancora letto integralmente il testo però già sono riuscita a capire qualcosa simile peccato un simile peccato ok figli secondo me hanno fatto qualcosa e secondo anche questa frase procedo qui ho capito che bisogna cercare gli incipit dei libri però poi effettivamente non so che cosa si fa una volta ottenute queste informazioni devo pensarci un attimo devo lavorarci ho iniziato a capire ovviamente che ci sono tantissimi riferimenti alla mitologia greca partendo dal titolo ma anche diversi riferimenti che riguardano le costellazioni e infatti qui ad esempio viene detto che il suo nome iniziava con la madre di Andromeda la madre di Andromeda era Cassiopea Cassiopea ha questa conformazione come costellazione e c'è scritto ricordo che per scegliere quella lettera io e mio padre ci mettemmo a testa in giù quindi secondo me è una E però arrivata questa lettera non so che cosa vuol dire poi si occupava di confusi a micchi senza una lettera e però ho provato a lavorare con questa parola togliendo delle lettere non viene niente di senso compiuto forse devo ribaltare proprio tutte le parole le lettere per comporre proprio un'altra parola non lo so poi ho trovato che degno di una dea potrebbe essere la dea Selene il 7 febbraio perché poi quando si parla di nuovo di questo giorno si dice qui che c'era questo giorno di Selene potrebbero esserci diversi giorni dedicati a degli dei a delle idee quindi non lo so non so con esattezza però diciamo che più vado avanti più mi capita anche di tornare indietro e aggiungere magari dei pezzi perché collego alcuni fatti però bisogna ancora lavorare un bel po' su questo testo a conferma del fatto che c'entrano sicuramente le costellazioni qui ne viene presentata una che ho scritto l'inizio di ogni cosa io sto cercando di confrontarla online con le costellazioni che ci sono che è molto difficile onestamente è un campo su cui non mi sono mai cimentata ho fatto anche qua dei collegamenti con i segni zoriacali le lettere dell'alfabeto greco ma non sono sicura qui viene citata una raccolta di Borges all'inizio pensavo finzioni però c'è scritto anche se in italiano e l'unica raccolta di Borges che ha un titolo che non è italiano è Alf Alef scusatemi e la traduzione sarebbe Alfa in italiano però arrivata a questo punto non è che ho trovato una soluzione un po' così al momento poi c'è anche questa pagina dedicata a questo diciamo alfabeto adesso mi viene in mente però una cosa perché qua viene detta un leprotto che corre è la terz'ultima uno due tre terz'ultima leprotto che corre in più mi viene in mente che in questa costellazione che mi sono salvata c'è scritto giraffa e qui c'è scritto giraffa quindi secondo me potrebbe esserci una connessione sì anche perché c'è scritto ecco che un ariete diventa la decima ed effettivamente uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci è la riete e in più mi viene anche in mente che tornando indietro a un certo punto ad esempio qua c'è una j c'entra qualcosa non so cerco di approfondire avevo tradotto sbagliato alef perché alef non significa alfa ma più toro effettivamente se lo si guarda sembra una a rovesciata e quindi abbiamo capito questo quello che non mi è chiaro è come mai il toro è una k e non una a qui questo mi sono persa potrebbe somigliare anche a una k però c'è sembra più una sinceramente ho fatto un altro forse collegamento qui dice che si sente che ormai ero diventato molto simile al sodio il sodio nella tavola periodica è il na però marco mi ha detto non dice che è il sodio dice che è molto simile al sodio e quindi nella tavola periodica andando ad aggiungere un orbitale però rimangono molto simili nelle caratteristiche e tutti gli elementi nella verticalità quindi molto simile al sodio potrebbe essere il potassio o anche il litio però il potassio sarebbe la k e quello che abbiamo capito è che la k è il toro e leggendo insomma le pagine precedenti sembra che ogni persona corrisponda a un segno zodiacale nel senso che è venuto fuori che qualcuno è un toro qualcuno è un sagittario solo che al momento non riesco a collegare bene chi sia effettivamente tra questi personaggi il toro però potrebbe essere una pista vediamo pensa io che credevo di avere buttato nel cesso i miei due anni di chimica all'università no da cui mi sono ovviamente ritirato però mi ricordo questo sì grazie sei stato molto utile magari non è vero se avessi studiato astrologia sarebbe stato anche molto utile perché questo libro è tutto incentrato sull'astrologia infatti subito dopo c'è questo e a me viene da pensare che sia la costellazione del toro mi sono salvata diverse foto delle varie costellazioni e questa potrebbe essere il toro però è capovolta quindi non so ho salvato diverse foto tipo queste sì il toro tu dici però ogni volta sono sempre diverse è dipendente da che lato lo rappresenti in che mistero sei però toro non mi sembra però vedi che sono completamente diverso cioè guarda quanti puntini qui ce ne sono da una parte non lo so non ce n'è un altro così oblungo adesso cerchiamo di capire perché poi c'è anche quest'altra costellazione prima ce ne sono questa e non so se sia quella di Andromeda secondo me è la costellazione di Andromeda ma non sono sicura penso di ogni cosa Marco sta provando a risolvere per me un'equazione un'equazione però con delle strane forme quindi prima dobbiamo fare questo quindi 3 cerchio alla seconda meno 0 uguale 2 cerchio non so come sia arrivata questa cosa sinceramente quello me lo porto di là 3 cerchio alla seconda uguale a 3 cerchio che non faccio matematica da un bel po' allora Marco si sta ancora cimentando nella equazione mentre io sto cercando di decifrare le lettere ed effettivamente ho trovato questo sito dove ci sono tutte le costellazioni e mi torno al fatto che le lettere centrino effettivamente con le costellazioni ad esempio qui c'è l'altare e qui c'è la costellazione dell'altare quindi tutte le lettere sono una costellazione idem la giraffa c'è la giraffa il fatto qual è che non riesco a capire con quale senso si associa una lettera alla costellazione tipo ad esempio questa potrebbe essere la corona strale perché finisce con A inizia con A adesso cerco di capire quelle a cui mancano delle lettere quali potrebbero essere però guardandole questa non mi sembra una H ad esempio ma ha una forma completamente diversa ne non capisco comunque è comodo questo sito perché poi entrando all'interno delle diverse costellazioni raccontano anche la storia e le curiosità e questo effettivamente torna utile perché in tutto il libro ci sono dei riferimenti alla mitologia greca allora la pagina 22 aiuta a risolvere la pagina 13 perché qui vengono elencati alcuni elementi e viene spiegato il fatto che le costellazioni non assomigliano alla lettera per la quale quell'elemento è stato scelto ma semplicemente perché l'iniziale è uguale e nomina quell'oggetto che come gli uomini ha due braccia e il cui equilibrio è sinonimo di giustizia quindi la bilancia l'animale che sarebbe poi la fenice e quell'altro che sarebbe la giraffa quindi bilancia fenice e giraffa sono i nomi utilizzati per le lettere B F e G e questo abbiamo capito poi c'è scritto anche che quello strumento lascia sul foglio la forma è perfettamente quella che è il compasso e questo ce l'avevamo già e l'ultima invece era l'ultima infatti la Z è volpetta l'ultima costellazione ora cerco grazie anche a Wikipedia di riempire quelle di cui riesco a effettivamente vedere qualcosa perché nel sito che avevo mostrato prima non ci sono tutte tutte le costellazioni mi sono resa conto mentre qui ci sono tutte e ovviamente questa pagina poi ci servirà a completare altre pagine come questa in cui immagino che poi le lettere andranno a formare una frase una parola qualcosa ah sì e non mi ricordo se l'ho detto ma invece alcune costellazioni hanno un nome danno un nome alla lettera proprio perché la costellazione assomiglia alla lettera ad esempio la costellazione della lepre è questa qua e quindi ci assomiglia per questo penso che la costellazione del cigno potrebbe essere la t perché è fatta in questo modo e Cassiopea potrebbe essere la e perché effettivamente vista a testa in giù ci assomiglia però non sono ancora sicura anzi ritiro subito quello che ho detto perché forse Cassiopea è la m perché qui c'è scritto così è più probabile che sia la m e quindi anche quella volta che avevo scritto la e qui qui indietro in realtà fosse una m qui ricordo che per scegliere quella lettera il mio padre ci mettemo a testa in giù e la madre di Andromeda è Cassiopea forse qui non è una e ma una m quindi a micchi senza una lettera potrebbe essere aichi si occupava di confusi aichi ma cosa vuol dire aichi ora il mio ragionamento è questo se per quelle dopo hanno giocato a unire i puntini e io ho bisogno della lettera eridiano perché qui c'è la parola eridiano vado a vedermi com'è fatto che è questo qui hanno giocato a unire i puntini che lettera potrebbe sembrare questa che lettera potrebbe sembrare questa non so forse hai visto da un'altra angolazione a te che lettera sembra Marco potrebbe sembrare una P una P mi manca una P mi manca mi manca una P una A una V si se guardi la parte centrale potrebbe essere una V così se la guardi così potrebbe essere una P l'altro non saprei proprio o una P o una V o una D una D magari la D no non può essere ok però mi manca anche la S potrebbe essere anche un S vabbè magari potrei mettere qua tutte le lettere e vedere quale parola risulta più in linea la croce del sud potrebbe essere la T in effetti che avevo messo come cigno o cigno croce del sud perché poteva essere anche la I visto che qua è censurata così la lettera non so bisogna andare per ipotesi secondo giorno di indagini ieri sera mi sono interrotta a pagina 52 quindi mi mancano ancora una quarantina di pagine da leggere però già ho iniziato a fare le mie teorie circa come potrebbero essere andati i fatti e questo è un buon segnale perché con la mascella di Caino invece mi ricordo che avevo letto tutte le pagine e ancora non ero riuscita a capire di che cosa parlasse il libro mentre qui diciamo avere anche una trama già stabilita all'inizio aiuta molto di più inoltre ho caricato su tiktok e su instagram il fatto che ho iniziato a risolvere il gioco di andromeda e ho ricevuto diversi commenti e messaggi di persone che mi hanno detto di essere riuscita a risolverle risolverlo e che effettivamente il caso è più semplice della mascella di Caino quindi c'è speranza questa volta c'è la speranza che io riesca effettivamente arrivare alla conclusione ma vi volevo dire qual è la mia teoria allora per il momento la mia teoria è che in un qualche modo i colpevoli siano andromeda ma soprattutto il fratello del fratello noi al momento non sappiamo il nome sappiamo solo le ultime due lettere io ho ipotizzato che potrebbe chiamarsi Perseo Telemaco o Cefeo sempre facendo riferimento alla mitologia greca ma ancora non so per certo quale sia il suo nome la mia ipotesi è questa che il fratello abbia una relazione con una ragazza più grande che frequenta l'università e che è una studentessa del padre questa studentessa diciamo in qualche modo si trova a avere quindi una relazione con il figlio e questa relazione crea dei disagi delle gelosie delle situazioni spiacevoli perché tipo questa ragazza io credo abbia tipo anche una relazione o con qualcuno di più grande non credo proprio con il padre però potrebbe essere tipo con un altro professore tipo l'amico del padre e insomma si genera tutta una serie di dinamiche per le quali poi muore la sorella di lui forse sempre per gelosia non lo so è una proprio ipotesi larga larghissima ed è la teoria che in questo momento mi sto facendo sicuramente voglio capire un po' meglio le relazioni che ha il padre quindi il detenuto con tutti quanti e non sono nemmeno sicura di dirvi che il diario sia da parte sua perché in realtà potrebbe essere stato scritto anche dalla figlia o dal figlio cioè forse questa è un'informazione che dovrei già sapere all'inizio non viene specificato mi sembra non viene specificato che il diario sia suo di lui potrebbe essere appunto anche della sorella effettivamente di Andromeda comunque spero oggi di riuscire ad arrivare a qualche risposta in più per il momento non ho strappato ancora tutte le pagine come vi dicevo finisco di leggere prima finisco di leggerle prima tutte ho strappato però alcune pagine che su cui dovevo tornare spesso per non dover ogni volta fare avanti indietro in particolare questa che avevo dato da risolvere a Marco con questa equazione anche se non so non ci capisco niente quindi non so dirvi se la soluzione sia effettivamente quella giusta questa perché volevo decifrare tramite l'alfabeto che cosa viene scritto l'alfabeto che stiamo cercando di risolvere e poi ad esempio questa pagina la 33 non mi ricordo neanche più perché motivo e di nuovo la 22 perché ci sono sempre dei riferimenti a questo alfabeto quello che credo di aver capito è che ogni personaggio ha associato un colore e un segno zodiacale sicuramente non so dirvi se il segno zodiacale faccia riferimento alla prima lettera del suo nome in un qualche modo o al periodo in cui questa persona è nata ci sono sicuramente tante date da tirare fuori da questo diario e in una prima lettura delle prime appunto 50 pagine adesso mancano le prossime 40 sono riuscita a individuare in generale di alcune pagine il loro collocamento temporale perlomeno se sono state scritte prima o dopo la carcerazione del detenuto quindi una cosa che posso fare anche dopo è metterle tutte in ordine sull'armadio e iniziare a collocarle anche a livello spaziale però con ordine oggi ho tutto il giorno per fare questa cosa qua infatti ora mi lego i capelli e mi metto all'opera la questione si fa difficile perché questo secondo me è un codice binario io ho provato a inserirlo nel traduttore però quello che viene fuori è questa frase indecifrabile con segni indecifrabili e quindi in realtà non sono riuscita a risolverlo ho cercato anche altri traduttori ma bene o male questo è quello che viene fuori mi sa che la faccenda è un po' più complicata ho strappato tutte le pagine in cui ci sono delle costellazioni perché voglio venirne a capo questa è sicuramente Andromeda più che altro perché c'è scritto l'inizio di ogni cosa e diciamo che alcune mi confondono perché ad esempio qui c'è scritto lo prenderemo proprio per le corna e secondo me potrebbe essere il toro però se vado a vedere effettivamente la costellazione del toro non ci assomigliamo anche per sbaglio forse io non capisco niente di costellazioni a sto punto forse vista così un po' potrebbe assomigliare forse devo collegare io dei puntini in un qualche modo cioè effettivamente messa così potrebbe sembrare la costellazione del toro boh non capisco pagina 67 qui sotto c'era scritto il suo nome era alle basi e rimescolando tutte le lettere potrebbe venire fuori Isabella mi sono ricordata che qui c'è questa personaggia che ha il nome parzialmente censurato e sembrerebbe essere proprio Isabella e poi mi è venuto anche in mente che tornando indietro a pagina 11 c'era questo paragrafo in cui veniva scritto quanto è raro che il nome di tanta saggezza si possa trovare anche tutta quella bellezza saggezza mi era venuta in mente Atena la dea Atena però poi c'è scritto mi viene in mente nella stessa lingua di lei l'antico concetto di kalos kaigatos anche se forse era più indicato nomen omen perché di rado ne ho trovata tante in una persona bello e buono vuol dire kalos kaigatos nomen omen un nome una certezza praticamente e andando a cercare effettivamente il significato del nome Isabella viene fuori donna umile e saggia che sfrutta le sue virtù di grazia e purezza per incantare chi le sta intorno immagino sia lei infatti mi sono segnata qua i numeri delle pagine vedremo più che altro perché degli altri personaggi abbiamo già il nome Sofia significa scienza sapienza poi abbiamo Maria che è un nome biblico più che altro Lavinia che è la moglie e gli altri Irene ma Andromeda ovviamente e gli altri sono tutti uomini ho forse appena decifrato una data partendo dal fatto che ho vissuto in latino si dice i vixit quindi i sarebbe 1 v1 sarebbe 6 e x1 sarebbe 11 quindi 1 del 6 del 2011 secondo me potrebbe essere e visto che si parla di Andromeda potrebbe essere che appunto Andromeda abbia 11 anni considerando che il fratello che dovrebbe avere la sua stessa età secondo me infatti sono gemelli è nato nel 2000 facendo un calcolo proprio veloce 2011 meno 2000 insomma viene 11 insomma penso di essermi spiegata la matematica chiaramente non è il mio forte poi mi sono ritrovata ad affrontare altri indovinelli ma onestamente sto facendo un po' di fatica l'unico che mi sento di aver compreso è questo qui anche se non l'ho risolto interamente che è quella pagina 73 dove ci sono dei piccoli indovinelli che ti fanno risalire a un numero e secondo me è un numero di telefono e mi ricordo che in una delle pagine prima adesso non so esattamente quale pagina si parlava del fatto che lui avrebbe chiesto un numero di telefono e che l'avrebbe scritto poi quindi poi quando andrò a mettere in ordine le pagine mi devo segnare che quella pagina del numero di telefono andrà dopo quest'altra ora cerco di risalire al numero pausa pranzo fatta adesso mi rimetto al lavoro con il mio caffè che mi darà una carica un boost di energia prima di andare a mangiare ho finito di leggere tutte le pagine non mi ricordo se ho fatto un aggiornamento comunque ho finito di leggere tutte le pagine e sono arrivata alla fine praticamente quello che ho notato è che ci sono un sacco di pagine che sono praticamente vuote e hanno solo un numero quindi la prima cosa che vado a fare adesso è staccare quelle e cercare di capire che cosa significano forse ha a che fare con il codice binario che non ero riuscita a interpretare forse ha a che fare anche con non so delle lettere ogni numero corrisponde a una lettera mi verrebbe da dire un alfabeto che non sono riuscita a interpretare adesso cerco di capire e poi semplicemente mi rileggerò tutte le le pagine e cercherò di rimetterle in ordine in un qualche modo vediamo se riesco a venirne a capo strappate tutte le pagine ed effettivamente ci sono tutti i numeri dallo zero fino a il nove questo questo complica molto la faccenda perché se ci sono tutti i numeri non posso neanche giocare sul fatto che magari qualche numero manchi e anche il titolo del capitolo è sempre lo stesso tele bel mistero bel mistero credevo non ci fosse nessuno con te o scusami tanto se puoi e abbiamo completato la prima connessione tra due pagine perché questa è fiori rosa fiori di pesco è una canzone e qui inizia un piccolo pezzo che qui finisce quando connetto due pagine le appiccico così con lo scotch per risolvere pagina 27 mi è venuto in mente che ho finito di leggere l'altro giorno la compagnia degli enigmisti e qui si parla proprio all'inizio del cifrario di Cesare che è praticamente utilizzare l'alfabeto ma cambiando le lettere in questo caso c'era il cifrario di Cesare più 11 mentre in questo caso è il cifrario di Cesare meno 3 quindi ad esempio la R non corrisponde alla R ma bisogna andare indietro di 3 quindi 1, 2, 3 corrisponde alla O ora mi metto a decodificare questo testo ok questa dovrebbe essere la soluzione oggi mi sono recato all'università per chiedergli dei soldi non vorrei ma sono messo molto male male l'ho visto mentre prendevo un sacchettino dall'armadietto ho capito subito di cosa si trattasse ne ho vista tanta in giro questo è l'alfabeto che viene utilizzato e queste sono le lettere a cui si fa riferimento realmente ho cercato di comprendere il nome che si cela in questa pagina decifrando queste piccole descrizioni che dovrebbero far riferimento ognuna di queste a una lettera e il nome che potenzialmente potrebbe essere giusto è Carlo facendo riferimento sempre a questo alfabeto e secondo me è il padre però non sono sicura sinceramente che la questione si risolve in questo modo sì penso che il nome sia proprio Carlo e penso che la pagina 17 sia quella che segue che inizia proprio dicendo probabilmente perché nell'ultima pagina avevo parlato di Carlo e ho preferito dimenticare piuttosto che rileggere quella triste storia qui effettivamente c'è scritto troppo dolore basta basta non riesco più a supportarlo quindi secondo me questi due si collegano in questo modo ho trovato un nuovo modo per etichettare i fogli visto che mi sta capitando di tornare più volte nello stesso foglio e non ricordarmi a che punto sono praticamente metto un post-it giallo quando devo ancora risolvere qualcosa ad esempio qui devo ancora risolvere questo indovinello mi sono messa a pensarci per tanto tempo ma ancora non ce la faccio quindi magari lo rimando a dopo mentre faccio una V quando ho risolto tutto quello che c'era all'interno della pagina ho cercato online qualche aiutino e ho capito che questa pagina si risolve andando a cercare la quarta parola e la terza lettera quindi la G è perché quarta parola terza lettera G terza parola seconda lettera e così via e viene fuori la parola geranio terzo giorno di indagini ho pubblicato negli scorsi giorni alcuni tiktok in cui mostravo che stavo risolvendo il gioco di andromeda e uno in particolare è andato virale ma virale tipo che al momento ha 400.000 visualizzazioni una cosa come 35.000 mi piace e soprattutto la questione ha generato tanti commenti e tante interazioni che mi hanno portato anche a capire alcune cose ad esempio che su Telegram è presente un gruppo nel quale tra l'altro c'è anche l'autore del libro e in questo gruppo ci si scambia diciamo consigli e aiuti sulla risoluzione del caso in più una volta finito il libro gli si può chiedere a appunto coloro che gestiscono questo gruppo l'autore intanto ve lo dico è Jacopo Cellini autore italiano si può chiedere a questo gruppo di essere aggiunti a un altro gruppo Telegram ancora nel quale sono presenti tutte le soluzioni e appunto mi sono aggiunta intanto al primo gruppo non quello delle soluzioni ma quello generale sui consigli aiuti e Jacopo Cellini mi ha scritto che nell'edizione Gold che è questa la prima ad essere stata stampata ci sono delle domande a cui bisogna rispondere che sono le domande del concorso come vi dicevo all'inizio del video quando è stato lanciato questo libro è stato lanciato anche un concorso che al momento è chiuso perché è finito nel 2023 e per partecipare al concorso oltre a riordinare le pagine bisogna rispondere bisognava rispondere a delle domande che adesso vi leggo qual è il nome dell'assassino di Andromeda qual è l'arma del delitto come si chiama la madre del narratore qual è la frase cifrata da Andromeda qual è la prima parola d'ordine usata dal narratore qual è la cattiva abitudine del protagonista come si è giunti alla soluzione quale materia insegna il narratore in quale giorno il narratore porta la figlia a vedere le stelle quindi per andare avanti con tutta qua la questione la faccenda tengo presente che queste sono alcune delle domande a cui si deve rispondere per il momento ho qualche ipotesi nel senso che ieri sera sono riuscita a decifrare alcune pagine tra cui questa che è la pagina 2 Sibilla e sono riuscita a capire come arrivare appunto alla parola geranio e secondo me questo geranio è il veleno di cui spesso si parla all'interno del testo ed è un veleno a cui secondo me il narratore è dipendente da quel narratore è dipendente ma non sono sicura non sono sicura di questo poi un'altra cosa che sono riuscita a risolvere è la pagina 77 dove c'è questa frase cifrata e per questa per questa risoluzione mi sono fatta aiutare un po' da google e da alcune altre persone che hanno giocato al gioco di andromeda perché sinceramente ero bloccata e sembrerebbe che appunto per trovare la chiave per rispondere a questa domanda bisogna guardare la chiave disegnata a pagina 47 all'interno della quale c'è un arco e poi criptare in questo modo l'alfabeto ora non ve lo so spiegare nel dettaglio comunque la frase che viene fuori è amor che ha nulla amato amar perdona secondo me questa potrebbe essere la risposta alla domanda qual è la frase cifrata da andromeda amor che ha nulla amato amar perdona però appunto ancora non sono sicura ora mi rimetto all'opera e cerco di dare risposta alle altre mille mila domande che ci stiamo ponendo in questo momento non capivo questo paragraffetto che cosa significasse fin tanto che non ho provato prima a collegare le lettere che stavano tutte da questo lato e poi quelle che invece erano alla fine ed effettivamente collegando tutte le lettere finali viene fuori la parola separazione pagina 8 amicchi senza una lettera è chimica ci ho messo un po' a capirlo ma è chimica per la pagina 84 bisogna utilizzare lo stesso espediente che si utilizza per la pagina 2 quindi andare a ricercare il numero della riga il numero della parola e il numero della lettera però utilizzando la pagina 26 come riferimento quindi si conta 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 poi si conta 2 seconda parola e prima lettera quindi A quello che viene fuori è la parola argentina la pagina 54 è uno stereogramma quindi bisogna andare a depennare tutte le volte che si trova un cento perché sono gli anni che compongono un secolo intero e vengono fuori i numeri 2 1 6 allora sono arrivata a questo momento qui il momento in cui è tutto sparso e a differenza dell'altra volta non sto appendendo le pagine all'armadio anche se avevo intenzione di farlo all'inizio più che altro perché sto facendo dei piccoli gruppetti in questo modo e mi trovo molto meglio poi a spargerli diversamente buongiorno è iniziata un'altra giornata e in quella di ieri in particolare io sono riuscita a mettere in ordine tutte le pagine le ho ordinate secondo una storyline che secondo me potrebbe essere fattibile quello che voglio fare oggi è andare a rileggere tutte le pagine e collegarle meglio tra loro più che altro ricostruendo la storia in modo più più vivido e risolvendo anche qualche piccolo gioco di parole che ancora non ho risolto bene o male per ogni pagina ci sono più elementi secondo me che la collegano l'una con l'altra e mi ha aiutato tantissimo cercare anche online qualche piccolo indizio diciamo spiegazione perché da sola probabilmente ci sarebbero stati dei momenti in cui mi sarei bloccata infatti spero che questo video vi possa essere utile se state risolvendo il gioco di Andromeda per darvi qualche spunto su come possono essere risolti alcuni enigmi detto questo vorrei registrare un video interamente dedicato alla soluzione ma prima di farlo ho bisogno di avere un po' più elementi a mia disposizione un elemento nello specifico è il tempo cioè voglio prendermi del tempo per rileggere tutto quanto e per registrare delle belle clip in cui vi spiego tutto quello che ho capito al momento sono riuscita a rispondere alla maggior parte delle domande però a livello proprio di trama ci sono alcuni passaggi che ancora non mi tornano vividamente e quindi voglio prendermi del tempo appunto per rileggere tutto mettere in chiaro le idee e anche voglio lasciare del tempo a voi qua sotto per scrivermi dei commenti che mi possono aiutare poi in quel video ad essere più chiara e a rispondere al meglio anche a tutti quelli che sono i vostri dubbi le vostre perplessità circa questo gioco per questa ragione ho deciso che questo video lo chiudo qui e poi sul canale ne farò uno interamente dedicato alla soluzione cercando di essere il più specifica possibile anche se non so se sarò capace ho bisogno del vostro aiuto questo decisamente cioè tutto quello che sapete tutte le informazioni che avete tutto quello che avete compreso voi vorrei che me lo scriveste se non volete farlo pubblicamente fatelo in privato considerate che il concorso il gioco di Andromeda al momento non è più attivo quindi non si vince più niente si gioca per il semplice piacere di giocare perché appunto è divertente arrivare alla soluzione e secondo me è anche un peccato che questa non venga data a un certo punto da parte della stessa casa editrice o dello stesso autore perché anche magari le persone che fanno un po' più difficoltà secondo me hanno piacere poi a sapere effettivamente com'è andata e io spero di essere capace poi di darvi più info possibili dunque vi ringrazio per avermi seguito fin qui per aver guardato questo video e spero di aggiornarvi presto con la soluzione grazie ancora e buona giornata grazie a tutti